Ho preparato il caffè per più di 30 anni nel mio bar, ogni giorno. Buongiorno. Buongiorno. Come va? È bene, grazie a lei. Buon ci male. Il caffè è la mia passione, è quello che amo. Qui il caffè, mi auguro che sia il suo gradimento. Era buonissimo, grazie. Arrivederci. Buona giornata. Cosa voglio? Fare un caffè perfetto ogni giorno. Grazie a tutti.